Benvenuti a Motor Racing School, il progetto di educational della Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con RCS Media Group, divisione Connecto e in collaborazione anche con la Gazzetta dello Sport. Il nostro è un programma appunto di formazione per permettere a giovani appassionati di moto di diventare seguendo le nostre lezioni giorno per giorno e settimana dopo settimana dei futuri piloti. Benvenuti su Motor Racing School